ciao benvenuti fanciulli e fanciulle andiamo a vedere l'oroscopo per l'intero mese di febbraio 2023 vedremo segno per segno naturalmente poi interrogheremo anche i miei tarocchi per andare nei dettagli nei particolari allora passaggi per questo mese di febbraio sono sicuramente il passaggio di mercurio ok a mercurio pianeta pianeta proprio della mente della comunicazione del movimento che passa dal segno del capricorno a quello dell'acquario il giorno 12 fra l'11 e il 12 di febbraio venere che dal segno dei pesci entrerà in ariete il giorno 21 febbraio quindi venere si sposta dai pesci all'ariete poi marte ancora che prosegue il suo moto diretto in gemelli giove che rimane ancora cammina ancora in ariete saturno in acquario e via dicendo quindi ovviamente il sole che dall'acquario entrerà anch'esso in pesci giorno 19 febbraio quindi sole mercurio e venere cambiano posizione e doveranno naturalmente una colorazione particolare al nostro mese di al nostro mese di febbraio che anche il mese dell'amore va bene con san san valentino ed effettivamente qui di amore di amori e di movimenti a ne vedo assai quindi andremo 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 a vedere anche altro passaggio molto importante molto particolare è il cammino di venere venere che andrà in se stile si dice cioè farà aspetto quindi diciamo andrà a collaborare passami questo termine andrà a collaborare con plutoni dal capricorno quindi lo va a svegliare lo va proprio a smuovere ma li dillo a mio modesti poi farà aspetto ovviamente anche con urano ti dico anche quando poi lo vediamo è quando vedremo i segni allora con urano diciamo fra il nei giorni dal 56 di di febbraio fino a san valentino diciamo fra il 6 e il dov'è qui perdo perdo i giorni fra il 6 e il 10 di febbraio venere farà con bellissimo se stile a con urano dal toro ed andrà stavo dicendo proprio a congiungersi proprio ad unirsi insieme nel segno romantico poetico dei pesci nel periodo proprio sì ma siamo proprio san valentino guarda siamo proprio nella settimana proprio di san valentino per stare un po larghi diciamo fra il 19 dov'è 12 sì nella settimana esatto nella settimana proprio di san valentino quindi qui a voglia ad amori guarda sono passaggi molto molto belli molto poetici molto romantici quindi qui se tu cerchi l'amore se hai un amore tu vuoi una scossa diciamo che qui tu te la puoi anche aspettare ma io direi di andare a vedere a questo punto segno per segno cosa comportano questi pianeti cosa porteranno questi transiti per il tuo segno zodiacale quello che ti raccomando guardati l'oroscopo per il tuo segno solare il tuo ascendente questi due come minimo poi ci metti anche il segno in cui hai la luna e quello di venere per un quadro quanto più completo quanto più personale possibile ma il sole l'ascendente come minimo va bene andiamo a vedere allora pesci il tuo segno zodiacale vede illuminarsi il settore del lontano ma anche della filosofia cioè tutto questo amore di cui abbiamo parlato perché qui ci saranno poi delle giornate in particolare delle settimane in particolare durante il mese di febbraio in cui sia venere sia il sole sia nettuno e per se stile anche flusone urano si incontreranno si comunicheranno no si diranno tutto quello che si devono dire ecco per te il cancro tutto questo può significare assolutamente tutto questo amore tutto questo potenziale potrebbe sfociare proprio nel settore diciamo nel come si dice mi vengono le parole signore come si dice nella sua testa inteso come filosofeggiare magari sognare potresti metterti lì a fare dei progetti per il tuo avvenire ma anche comunicazioni veramente con il lontano io non so se tu lavori o se tu hai dei contatti personali con qualcuno che è lontano da te magari un figlio magari un amore che vive in un altro paese o semplicemente a tanti chilometri da te ok ma ancora qui posso vedere il lavoro quindi sicuramente qualcosa di molto positivo qualche comunicazione o qualche viaggio addirittura di lavoro per motivi proprio di lavoro che tu potresti fare durante il mese di durante il mese di febbraio qualcosa potrebbe anche cambiare nei rapporti interpersonali cioè se tu sei sposato magari anche tu sei in società lavorativa con qualcuno quindi con un partner di vita o commerciale capito cosa intendo ecco anche lì ci può essere un qualche progetto importante che tu può fare con questa persona o ancora un investimento importante in termini proprio di denaro che tu potresti fare insieme a questa persona per questo business che voi avete intenzione di intenzione di fare ovviamente non varrà per tutti però insomma quelle la strada ora interroghiamo anche i tarocchi naturalmente ok però ecco qui molto è questo qui posso vedere anche un qualcosa che si sta sviluppando che sta arrivando ora alla vetta di un qualcosa quindi magari hai già lavorato su un qualcosa che si può trattare come ti dicevo un qualcosa per esempio insegnamento la cultura la filosofia le lingue oppure il commercio con il lontano anche con l'estero e via dicendo poi tu mi dirai nei commenti qual è il tuo caso va bene su tutto quello che ti ho detto quindi ecco dei movimenti molto molto importanti anche fisici è perché non escludo non so se te l'ho detto te lo di ora anche qualche viaggio anche qualche viaggio che tu potresti fare qui c'è molto il cuore coinvolto quindi senz'altro un qualcosa che ti sta a cuore scusa il gioco di il gioco di parole ma di qualsiasi cosa si tratti che andrà naturalmente in senso positivo tu la fai con qualcun altro comunque per qualcun altro cioè qui non sei solo ad agire non so se mi sto spiegando ma vediamo la vediamo i tarocchi che cosa ci dicono cosa aggiungono a questo quadro di per sé molto eloquente dei transiti planetari vediamo segno zodiacale del cancro segno zodiacale del cancro per il mese di febbraio 2023 come trascorreranno il mese tutte queste persone segno zodiacale cancro ovviamente per chi ha il sole l'ascendente la luna venere intanto andiamo a vedere segno zodiacale cancro per il mese di febbraio 2023 wow qui c'è un bellissimo 3 di denari il segno zodiacale cancro mese di febbraio 2023 3 di denari prima si è scoperta questa ok 3 di denari il mondo 3 di denari mondo il 9 di spade è il 7 di denari e l'imperatrice guarda e nel taglio guarda cosa c'è nel taglio un fantastico uno spettacolare 3 di hop bello vedi guarda anche qui si vede anche senza sapere leggere né scrivere il sole che sta spazzando via il buio della notte qui c'è il sole la luce che vince sulle tenebre quindi penso a questo 9 di spade no quindi a tante pippe mentali tante paure magari qui c'è o c'è stato un periodo un po' un po' difficile dei pensieri molto negativi magari perché effettivamente tu hai avuto dei problemi per carità qui c'è la chiusura alla fine di un ciclo e la ripresa quantomeno di qualcun altro cioè qui c'è un'imperatrice quindi c'è senz'altro una mente una mente non per nulla fanno vedere proprio il pianeta venere e mercurio aggiungo io ok in armonia quindi qui c'è un qualcosa che si fa per la gioia di fare sicuramente per la gioia di fare un qualcosa che si fa con piacere e che porta piacere fatto sta che qui ti si va aggiustare un qualche cosa con questi transiti del mese di febbraio sicuramente l'unica cosa questo 9 di spade o un po così perché c'è un mercurio e camminerà a meno per parte del mese camminerà nel segno a te opposto nel segno a te opposto della del capricorno però poi passerà in acquario quindi ecco perché magari qualche problemino qualche paura magari qualche scontro con qualcuno qui fanno vedere un nuovo lavoro o comunque una nuova carriera effettivamente qui tu potresti riprendere delle trattative lavorative magari che si erano interrotte o che avevano tardato guarda qui c'è l'occhio e c'è l'abilità psichica ok quindi fidati della sua intuizione ok quindi la risposta alle sue problematiche te tu ce l'hai di già effettivamente una venere che si va a congiungere a un e tu non pesci cioè qui non ti dico tu vedi il futuro né tu sogni ma anche sì un cancro capito qui tu potresti veramente passare un periodo in cui la tua intuizione ok la sua intuizione e la tua sensibilità sarà all'ennesima potenza durante questi transiti quindi sappili sfruttare vediamo qui c'è un ufficiale una persona in divisa con cui tu potresti avere sicuramente a che fare durante questo mese di febbraio per ognuno di voi potrà richiamarti significarti una situazione ovviamente diversa quindi per chi può essere il tuo compagno per chi lo saprete voi diciamo che durante il mese di febbraio qui ci sarà una persona in divisa che giocherà un ruolo importante ok con cui voi avrete naturalmente a a che fare fatemi sapere è cancro comunque ci sono dei transiti assolutamente positivi c'è solo questo mercurio un po così quindi anche la lingua le parole magari un figlio ci fa girare un po le scafole ma teniamo a freno la lingua contiamo fino a 10 anche fino a 100 prima di parlare va bene mi raccomando in qualche scontro ci può essere magari forse proprio con questa persona qui molto testarda molto caparbia c'ha sempre ragione lui e via dicendo non mi dilungo oltre ok quello che vi volevo dire ve l'ho detto quindi noi ci vediamo ovviamente al mio prossimo video a questo video ovviamente vale se siete del segno del cancro se avete l'ascendente cancro l'aluno venere in cancro fatemi sapere vi aspetto ciò nei commenti va bene ciao eccoci qua vi lascio ai miei vi no ciao